Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Distrutto dalle fiamme il rifugio Corsini sul monte Nerone che si trova a 1249 metri sul livello del mare Ancora un attacco dei lupi, sbranate 15 pecore in un'azienda agricola di Monte Cucco A San Salvatore di Pesaro inaugurato un nuovo padiglione mentre Ceriscioli annuncia 200 milioni di euro per la sanità Al via da oggi festeggiamenti per il 500esimo anniversario del voto fatto dai mombarocesi al Beato Sante per lo scampato pericolo della distruzione del paese Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fanno TV al nostro consueto appuntamento con il telegiornale, informazione locale sul canale 17 Del rifugio Corsini non è rimasto in piedi praticamente più nulla Non c'è rimasto più nulla L'incendio divampato nella tarda serata di ieri lo ha completamente distrutto Oggi per noi sulla cima del Nerone sono andati Veronica Angeletti con l'operatore Filippo Bucci Nello splendido rifugio Corsini, meta ambita di escursionisti sia d'estate che d'inverno Non è rimasto più niente, un incendio l'ha completamente distrutto Ieri sera, mercoledì, verso le 18.30 Nulle valsa tutti i uomini della caserma di Calli anche con il supporto di uomini di Urbino per venire a salvare la struttura E meno male che tutti questi uomini si sono mossi con le autobotte perché l'incendio minacciava anche di propagarsi alla montagna E a darle allarme gente che dal fondo valle, ossia da Cagli a Qualagna, a Pecchio e Piobico hanno visto le fiamme letteralmente divorare il Corsini In mezz'ora l'incendio ha distrutto una baita su cui per 50 anni in tanti hanno investito idee e speranza per fare del Nerone il polo attrezzato meta ambita tutto l'anno gli sportivi un luogo speciale dove lasciarsi inebriare dallo spazio e dal panorama Questo rifugio, Rifugio Corsini, è storia è storia, è un punto di riferimento per tutto il territorio marchigiano e anche la vicina Umbria, la città di Castello e così via è un punto di riferimento importante per camminatori per appassionati della montagna, per sciatori cioè veramente stava andando anche bene il ristorante con tanti sacrifici l'abbiamo portato ad essere un ristorante dove veramente la normativa è tutto a posto, tutto in regola veramente si mangiava anche bene ci si faceva anche delle feste, delle volte Oggi dovevano esserci una sessantina di persone che avevano prenotato ma l'incendio è partito dalla parte che era stata ristrutturata? Adesso si fa fatica a sapere da dove è partito l'incendio però sicuramente la parte nuova che è stata ricostruita e ampliata nel 2003 era completamente in legno dove c'erano poi comunque anche tutti i macchinari il bar, le attrezzature, queste cose qui penso che sia partito da lì però noi non possiamo sapere niente perché comunque anche i gestori non c'erano in quel momento avevano chiuso erano già ritornati giù in paese sono stati qui tutto il giorno per preparare proprio per questo pranzo che c'era oggi però si fa fatica a dire come sia successo si pensa a un cortocircuito Per domare le fiamme hanno lavorato alacremente quasi tutta la notte 14 vigili del fuoco portando in cima due autobotte tra cui una proveniente d'Urbino un'autopompa due mezzi per gli incendi di bosco hanno anche sfruttato la riserva acqua a servizio d'inverno dell'impianto di innevamento affranti tutti appassionati che nel rifugio Corsini vedevano una meta per le passeggiate estive ed un ricovero per gourmet d'inverno una baita che proprio ieri sera operai specializzati avevano finito di rivestire di legno i muri in cemento gli unici rimasti oggi ancora in piedi e solidarietà è stata espressa dal vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Renato Claudio Minardi alla proprietà e gestori della struttura Minardi che ha detto conosco bene e sono affezionato a quel ritrovo da tempo frequentato da tanti turisti che amano i posti suggestivi del Monte Nerone e decidono di trascorrervi le vacanze il mio auspicio è che una volta accertate le cause dalle autorità competenti si possano ricreare le condizioni per la ricostruzione necessaria per tornare ad essere il luogo funzionale ed attrattivo che tanti conoscono c'è stato un altro attacco un altro attacco da parte di un branco di lupi questa volta dopo Saltara, Pergola e Fossombrone ad un'azienda agricola che si trova a Montecucco qui è ora è ora che ci diano una mano a partire dalle istituzioni dai politici, dai sindaci che loro devono fare qualcosa bisogna che facciano qualcosa è ora di farla finita è ora che ci aiutino tutti perché se no qui noi già i problemi che abbiamo siamo in un mare di guai ma di guai ma non piccoli è ora di farla finita, basta è un appello accorato ma forte e deciso quello di Marco Roberti titolare dell'omonima azienda agricola di Montecucco a terre roveresche come il suo carattere di imprenditore e di cultore del cibo di qualità che ha fatto dell'amore per gli animali il suo credo non si dà pace per la carneficina che hanno perpetrato i lupi quattro i capi morti azzannati di cui uno completamente sbranato la scorsa notte nella prima ondata poi la notte scorsa la seconda con il ferimento di altri sette capi che portano ancora i segni degli attacchi del branco al collo e alle zampe e quella decina di capretti scomparsi e razziati dai lupi si parlava che c'erano sti lupi in giro ma adesso vedere uno spettacolo così veramente ci dà già pochi problemi che abbiamo ci dà proprio uno sconcerto di quelli grossi non tanto per il danno delle capre perché uno può dire che le capre valgono poco qua di là ma è brutto da vedere è una cosa proprio brutta io ieri sera sono andato mi sono accorto che sono andato con i nipotini a fargli vedere che nasceva un vitello poi siamo andati a vedere le capre nel pascolo ne vedo uno morta poi vado a guardare i capretini non ce n'era più neanche uno poi chiamo gli operai andiamo a vedere abbiamo trovato una carneficina ha fatto proprio una cosa desolante e poi è qui perché stamattina alle 6 mio fratello l'ha visto passeggiare proprio lì davanti al ristorante non è che poi ha neanche tanta paura fino ad oggi erano state le volpi a togliere il sonno ai Roberti centinaia negli anni i capi tra pollame e altri animali di bassa corte morti nelle scorerie dell'astuto animale ma i lupi così vicini alle abitazioni e nell'azienda non si erano mai visti e come negli altri episodi avvenuti nel territorio al servizio veterinario dell'Asur non rimane che certificare l'attacco reso inconfondibile dai segni lasciati sul collo alle loro vittime dai lupi sì sono venuto a fare questa constatazione del decesso su capre segnalate dal signor Roberti e i segni sono proprio quelli classici di azzannamento da lupo che classicamente prende sempre dalla gola e poi degli animali feriti si nutre ben poco e comunque le lesioni sono proprio dopo tricotomia fatto tutta l'osservazione classica sono proprio inequivocabilmente da lupo gli animali feriti che destino avranno a questo punto? gli animali feriti che ho visto dovrebbero riuscire a superare la lesione bene adesso invece andiamo a Monbaroccio dove tutto il paese è pronto per dare il via ad una rievocazione importante sono trascorsi 500 anni da quando i Monbaroccesi chiesero e fecero un voto al Beato Sante per scongiurare la distruzione del paese il santo evidentemente se ancora Monbaroccio è lì bello come una cartolina evidentemente li ha ascoltati e dunque ci colleghiamo con Lino Balestra vedo con i suoi ospiti per che cosa? ma sì Marco buonasera a tutti per un momento molto importante perché fra poco una spingarda verrà azionata e un colpo di cannone darà il via a queste celebrazioni così importanti per questo 500esimario Bartocetti è un momento importante per tutti voi sì è un momento soprattutto importante per la nostra comunità per tutta Monbaroccio per tutte le nostre associazioni ricorreva l'anno 1517 quando Monbaroccio stava per essere assalito e distrutto i monbaroccesi sono invocati al Beato Sante chiedendo la grazia di non distruggere il borgo di Monbaroccio da quell'anno 1517 tutti gli anni i monbaroccesi vanno a piedi a Monbaroccio vanno a piedi al santuario del Beato Sante per queste celebrazioni abbiamo deciso di rievocare tutta la storia quindi il 10 e l'11 agosto dentro il castello di Monbaroccio ci saranno rievocazioni storiche con la pandolfaccia di Fano ci saranno momenti molto belli attrattivi non voglio svelare di più perché lo sveleremo poi i prossimi giorni ringrazio per la straordinaria collaborazione che abbiamo avuto da tutte le associazioni del territorio e la collaborazione l'evento è organizzato dalla Proloco di Monbaroccio in collaborazione con l'amministrazione comunale e tutte le associazioni del territorio ringrazio per la presenza qui questa sera del vice sindaco e di Amerigo Varotti il direttore della Confcommercio che rappresenta per noi un importante momento la sua presenza qua perché sta a indicare l'importanza delle Proloco e quello che la nostra Proloco in particolar modo sta facendo per il territorio e per la promozione bene loro sono in costume ma gli altri alle mie spalle no però presto lo saranno per lo meno per le vie cittadine e adesso Fabio della Pandolfaccia darà il via con un colpo di spingarda proprio alle manifestazioni attenzione perché assistiamo in diretta all'avvio questo è stato l'avvio ufficiale di questo momento così importante per Monbaroccio restituisco la linea allo studio bene grazie grazie a Lino Balestra e naturalmente ai suoi ospiti capiamo argomento parliamo ancora del carnevale di Fano perché quello estivo perché non si placano le polemiche sulla scarsa promozione e non soltanto quella relativa appunto alla manifestazione che si è appena conclusa domenica scorsa sul lungomare il centrodestra fanese unito chiede le scuse della carnevalesca che nei giorni scorsi aveva criticato il consigliere comunale Mirisola le scaramucce tra sostenitori e detrattori dell'evento estivo legato al carnevale messo in piedi dalla carnevalesca lo scorso fine settimana non sono affatto finite il fuoco cova sotto la cenere e viene quasi da pensare che al di là della riuscita o no della manifestazione si aspettasse un po' al varco l'organizzazione per fargli un po' le pulci ma al di là delle percezioni e delle sensazioni a pelle gli schieramenti e le vedute conseguenti rimangono gli stessi successo di pubblico per gli organizzatori flop e di carnevale fanese nemmeno l'ombra per i detrattori la scintilla che ha dato fuoco alle polveri è stata la dichiarazione del forzista Mirisola che ha parlato a 24 ore dalla festa perché è di questo che stiamo parlando di una festa aspettando il nulla a che vedere con un'edizione estiva delle sfilate in Viale Gramsci invernali di un evento paragonabile ad una comune festa della porchetta come già tante ce ne sono in estate niente promozione turistica e amaro in bocca per i fanesi doc e la romanità che rimane a far la muffa sul tavolo dell'assessore tuoni e fulmini a stretto giro da parte della carnevalesca che ha dita il consigliere comunale Mirisola come disfattista e nemico della sua stessa città rivendicando la presenza di migliaia di persone nella fettuccia di terra tra il faro e il pesce azzurro quindi successo pieno con le risorse a disposizione 28 mila euro tanto girato dal comune anziché gli 80 mila richiesti per un evento un po' più corposo e come normale che sia nemmeno la contro contro risposta è tardata ad arrivare il centro-destra unito Udc Latuafano Progetto Fano e Forza Italia scendono in piazza ma per una conferenza stampa sì perché comunque come consigliere comunale è normale far presente all'amministrazione quelle che sono le problematiche cittadine non è normale che l'ente carnevalesca entri nel dibattito politico al posto di Marchegiani che dovrebbe darci risposte su cosa intende fare della nostra manifestazione principale quella che dovrebbe essere da traino per l'economia locale invece preferisce stare zitto far scena mute e mandare avanti qualcun altro quindi da questo punto di vista chiederemo sì un intervento del Presidente chiederemo le scuse ufficiali della carnevalesca perché non è accettabile un atteggiamento di questo tipo Stamattina il generale di brigata Fernando Antonio Nazzaro neocomandante della legione carabinieri Marche di Ancona ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di Pesaro e Urbino ad accoglierlo il comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Marco Filoni gli ufficiali della sede delle compagnie di staccate nonché una rappresentanza di militare in servizio presso i reparti di tutta la provincia e l'arma in congedo Nazzaro ha salutato in particolare gli uomini in servizio nelle 34 stazioni dislocate in tutta la provincia ringraziandoli per l'impegno profuso nella loro opera di tutela alla legalità a favore della comunità esortandoli a proseguire Il segno del nastro ieri nell'ospedale San Salvatore di Pesaro Marche Nord ha inaugurato una nuova palazzina con un investimento complessivo di 5 milioni di euro Battezzata con la lettera I la nuova palazzina inaugurata nella giornata di ieri dai vertici di Marche Nord all'interno dell'ospedale San Salvatore di Pesaro 5 milioni di euro di cui 420 mila di budget interno all'azienda l'investimento complessivo per la struttura di quattro piani per una superficie di oltre 3.800 metri quadri adiacente al padiglione che ospita neurologia e medicina trasfusionale le attività raccolte nel nuovo padiglione comprendono oltre a nuovi arredi che rendono accoglienti gli spazi comuni i singoli ambulatori l'attività del poliambulatorio organizzata anche grazie ad un moderno sistema di elimina code per la gestione delle attese poche e semplici mosse che consentono ai pazienti l'accettazione al servizio la visualizzazione delle chiamate e l'accesso all'ambulatorio di riferimento d'altra parte grazie al nuovo sistema gli operatori gestiscono in tempo reale le attese e monitorano gli accessi dei pazienti dopo avvi e ripartenze del carintiere che hanno dilatato i tempi della consegna ieri l'inaugurazione alla presenza dei vertici locali e regionali della sanità palazzina di quattro piani piano interrato per cucina e logistica magazzini primo piano diagnostica di laboratorio complesso e ambulatori piano terra e ambulatori di diagnostica complessa primo piano tutta la parte ambulatoriale con tutte le specialistiche e praticamente il secondo piano che è costituito dall'anatomia patologica dove il servizio si sposterà da una palazzina faticente in questa nuova struttura proprio in tema di investimenti la regione Marche l'altro ieri con una variazione di bilancio ha approvato una manovra di 202 milioni di euro di risorse per il sistema sanitario regionale frutto di una votazione lampo del consiglio regionale è pronto un contributo della regione Marche di 140 mila euro per la manutenzione delle scogliere di Marotta a dare la notizia ai consiglieri regionali Federico Talè e Boris Rapa che hanno lavorato in sinergia con la giunta delle Marche e con gli uffici per l'individuazione di queste risorse questi fondi spiegano consisteranno nel finanziare la ricarica delle scogliere nel litorale sud di Marotta ovvero 540 metri che dal complesso residenziale le vele si estenderanno in direzione Fano Ivan Cottini il modello malato di SLA ieri pomeriggio alle 16 è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro durato circa un'ora e mezzo nello studio privato del capo dello Stato si è parlato di viola e della sfida in vasca con Filippo Magnini delle difficoltà che la malattia gli provoca prima del colloquio Ivan Cottini ha voluto regalare al presidente Mattarella un presente una maiolica durantina a ricordo della sua visita il modello non ha perso l'occasione inoltre per parlare al presidente Mattarella della legge regionale che riguarda le agevolazioni per le famiglie con un malato grave all'interno del nucleo familiare Cottini una decina di giorni fa via lettera è stato invitato ad un colloquio personale con il presidente della Repubblica che già in un'altra occasione aveva espresso al modello il suo apprezzamento per l'impegno pubblico allora dopo il telegiornale andrà in onda in cucina con lo chef una nuova puntata e poi uno speciale su un evento che si è tenuto a Fossombrone il Fossombrone Festival con Sonia Bergamasco l'informazione dunque finisce qui grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona serata a domani all'ium un'um 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 Grazie a tutti.